Meghan Markle e il principe Harry hanno sorpreso i loro fan mentre la coppia ha fatto un'apparizione con il figlio di tre anni Archie alla parata del 4 luglio di Jackson Hole lunedì nel Wyoming, secondo un notiziario, le immagini mostrano la coppia e il loro figlio di tre anni Archie che osservano la processione dal marciapiede tra una grande folla di spettatori. Il piccolo Archie può essere visto succhiare un lecca lecca rosso e tenere una mini bandiera americana mentre i genitori adoranti Harry, 37 anni, e Meghan, 40 anni, si siedono nelle vicinanze. Harry è passato per un tipico papà americano, che indossava un berretto da baseball marrone chiaro, una polo grigia, pantaloncini e scarpe da ginnastica, mentre Meghan indossava una canotta, jeans, sandali warashis e completava il suo look con un cappello a tesa larga marrone. Secondo il notiziario, il duca e la duchessa del Sussex sono noti per proteggere ferocemente la loro privacy e raramente vengono avvistati in pubblico, ancor meno con il loro bambino dai capelli rossi e la figlia Lilibet. 1. Lilibet non è stata avvistata alla celebrazione del 4 luglio e non è noto se abbia viaggiato con il trio nel Wyoming. Dove sono stati raggiunti dall'amica istruttrice di Pilates di Meghan Heather Dorach e dai suoi figli. Il gruppo è passato completamente inosservato fino a 15 minuti dall'inizio della parata di due ore annunciata localmente come una celebrazione patriottica della cultura e della comunità, secondo le sorelle Susan Mills Eccles e Deborah Mills Hall. I fratelli di Charlotte, nella Carolina del Nord. Erano a Jackson Hall come parte di un viaggio ed erano arrivati alla processione delle 10 per trovare un uomo ben fatto a guardia di quattro sedie da campeggio pieghevoli. Susan, un'insegnante di quarta elementare, ha detto a Mail Online, eravamo in piedi nelle vicinanze e questo ragazzo grosso ci ha detto che stava risparmiando i posti per una famiglia. Ho detto, ok, va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.